Musica 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 Ciao Leti Prima di tutto volevo augurare tantissimi auguri di buon compleanno spera che tu possa passare questo giorno nel migliore dei modi noi siamo qui per rendere questo tuo giorno il più speciale possibile e inoltre se potessi regalarti qualcosa di wow cioè proprio fuori dal comune qualcosa che non hanno tutti che non possono avere tutti e che non ha nessuno probabilmente anzi quasi sicuramente vorrei farti diventare un supereroe ti farei diventare wonder woman ti farei diventare la bimba più forte del mondo perché già lo sei e non lo so ti vedo così un supereroe quindi questo è quello che ti regalerei io che non 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 è assolutamente vero spero davvero tu possa passare una giornata fantastica e volevo dirti che se dovessi scegliere un regalo da farti un regalo bellissimo ma la vorresti una casetta piena di scimmie no perché io te la regalerei ma bella una casetta piena di scimmiette cioè tu insieme alle tue amichette fantastico no davvero te lo vorrei fare un regalo del genere perché sei uguale a loro uguale mi piace e niente volevo augurarti una splendida giornata e dirti che ti voglio tanto bene auguri lety ciao lety oggi è un giorno molto speciale per te è il tuo compleanno e infatti ti auguro tantissimi auguri e spero che tu passi al meglio questa giornata io ti conosco da molto poco però mi è bastato per capire quanto tu sia gentile altruista con gli altri e se potessi farti un regalo io ti regalerei un bell'album dove tu ogni giorno puoi metterci delle foto mentre fai ginnastica oppure con le tue migliori amiche ciao 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 lety oggi è il tuo compleanno voglio augurarti tantissimi auguri ciao stai sempre con le persone che ti fanno stare bene ti fanno sorridere se dovessi scegliere un regalo per te oggi ti potrei vedere le scimmie e te ne farei prendere una tutta per te piccolina oppure ti porterei in un posto pieno di scimmie solo per te potessi dare il nome a ognuna di loro però purtroppo non ci può ma andremo a vederle insieme te lo prometto ti vuole tanto bene lety un bacione grande tanti tantissimi auguri ancora e sono sempre qui si hai bisogno di me buona 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 tantissimi auguri di buon compleanno ti auguro di passare al meglio questa giornata e se dovessi farti il regalo dei tuoi sogni penso che ti regalerai una scimmia domestica Ciao Ciao Liti, finalmente è arrivato anche per te questo giorno, c'è un bel tuo compleanno e volevo farti tantissimi auguri per i tuoi 14 anni. Spero che tu possa passare una bellissima giornata e che tu possa vivere al meglio. Volevo dirti che sei fantastica, sei una forza della natura e spero che tu possa continuare così. Credo che se ti dovessi fare il regalo della vita ti regalerei un piccolo cucciolo di scimmietta, ma perché tu adori le scimmiette. E niente, quindi ancora tantissimi auguri, un bacione. Tantissimi auguri per il tuo 14esimo compleanno. Se potessi farti il regalo dei tuoi sogni probabilmente ti regalerei un pass per andare a Parigi 2024 e quindi per partecipare alle Olimpiadi. E io ti regalerei uno scimmio. Ti voglio un modo di bene. Grazie. 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 Grazie.